eccolo eccolo bella fra ti vedo ti vedo ma devo aiutare mi manca un pezzo a 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 e si riparte biscotti a 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 qui guarda sinistra non ci piace facciamo la prima run così va pack de valigetta pack de valigetta pack de valigetta allora io però il volume di gioco mistura le orecchie ha a a un 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 ok, next quindi tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut mi sembra un ottimo inizio diciamo che devo andare di qua posso uccidere lui devo tornare in qua qua non ci posso andare però posso fare così shit no e ho capito intanto mi devo prendere la valigia che pirla dicevamo così 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 ah così così qui no quindi intanto mi prendo la valigia qui qui no giro intorno è ciao valigia qui i tre corvacci qui di fuori che incominchia sono questi qui c'è una porta una cosa nuova la valigetta lì dentro ah immagino che io mi do chiave una volta presa la chiave questo non lo posso killare se no questo mi kill a sua volta a sua volta la chiave la chiave rossa la chiave gialla tu crepi ok quindi posso fare di questo tornare indietro prendere il valigio a dire qua qui sono morto sono molto morto no direi di no allora e fino qui ci siamo qua qui scavallo così no almeno la valigia però la voglio ma almeno la valigia però la voglio maledetto bastardo ok come ne esco come ne esco non lo so perché se vado su quello mi ammazza ma così ciao 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 ne questi inutili paligioetta ma più di 23 turni più di 23 turni da l'ottavo una volta io all'ottavo e riparte la consueta ave maria questi se la pregano anche? da paura chiave rossa what ah ok diciamo ok non va presa subito la chiave rossa benissimo benissimo andiamo questa non è chiusa ok torna indietro ok ok io devo arrivare alla maria qui ok e ce l'abbiamo perfetto signorina mi dispiace ma io dovrei dirle una determinata cosa aduken ah così proprio io face to face su face to face ok skip no devo killare lui ma no questa come minze calapiglia maledettima ma cos'è ciao easy easy partente va bene va bene oh il travestimento si ci piace ci piace ci piace il travestimento ci piace oh il travestimento ah ah what cos'è sta roba oh di lì really quindi io posso fare così mi stai dicendo così a questo punto prenderei questo a questo punto prenderei questo si muove io rientro sei un bastardo eh invece no invece si così giro di fuori vengo di qua botolone mi attacco se rientro si gira faccio una mossa così uguale come la piglio la rigetta no la piglio stavolta no la piglio voglio un po' di mosse a caso no perché mò vado qui così dove si gira e non posso andarci what the hell what the hell what i just want to kill you it's okay go next let's go next next hi hi what why what ok solo loro what No! Let's do this again! No kills! What do we have here? What do we have here? What do we have here? No! No! This is... Oh! The blue one! What? Little bit! What? Interesting! Okay. 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 Forse ho capito. A questo punto posso prendere la verde. Okay. Okay. Venire qui. Fare ciao! Fare così. Fare cosa? Ciao! Wow! Passare in osservato. He... 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 Ok. Let's see. Let's see. Non Oh Non 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 La chiave gialla ma a questo punto ce l'abbiamo fatto Si 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 Lukan E C'è una festa C'è una fetta Mi Vesto No Ah Si Ok E Porca Misera ho sbagliato C'è una chiave rossa Tutti qui Non so perché Ma tutti qui Presto Non Non credo che fosse la mossa è corretta Qui divento blu No Voglio provare un'altra cosa Voglio provare A diventare Dopo blu Quindi adesso Ci rifacciamo tutti Easy Tiro questo qui Tiro questo qui Quello di qui Non ho preso la llame Ecco Ok Benissimo Quello devo attirarlo prima Perché sennò poi non posso prendere la chiave Quindi Quindi Faccio così Così questo viene qua Però io rimane Schifo Divento blu Vado a prendere la chiave Perché tirare allora il sasso Questa è un'ottima domanda Geo Bene Stratta? Ah Schifo di qua Ci ho messo 96 turni però Diciamo che Diciamo che Ce l'abbiamo fatta Ci ho messo 96 turni però Diciamo che nessuna scesione dai che ci finiamo il livello 4 minuti ci finiamo il livello dai molto bene il botolone botolone giù giù e giù non ci posso andare qua ora si ora no entro qua, lui viene qua vado qua lui qui no me ne vai, ho deciso mato lui tana di una eva allora vediamo, scendo qua vengo giù ancora giù torno su e di qua poi posso ammazzare questo qui no e qui sono un pirla e qui sono un pirla su su qua tumore muore ah vabbè allora sto stupido sono sciocco allora abbiamo detto qua doppio passo alla Ronaldinho e uccido lui lui mi uccide però se vengo qua non posso fare una ciparuola mi sa ma forse si così si così mi ammazza lui però vengo giù lui non mi dice niente vengo giù ah ciderbolina porco e mannaggia quanti secondi non riusciamo a finire allora vediamo se riusciamo a finire almeno questo quadro qua allora è andato tutto abbastanza bene poi qualcosa sarò allora qui traccheggio traccheggio prendo qua devo fare il giro di peppe qua così prendo chiave prendo valigia torno indietro vengo giù bot qui qua e qua temporeggio temporeggio no no allora con calma e per piacere vengo giù vengo di qua tu muori tu muori tu muori mi getta mi getta indietro botolina ma no 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 sì sì ma io qua non ci potrò mai andare e invece mister con il suo bel nasino a punta le devo dire una cosa aduken liquido 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 sigaretta eltronix e ok ah no era questo l'ultimo meraviglia meraviglia e allora tempo zero forse già da qualche secondo passiamo a photoking just a minute just a minute just a minute a fare es 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 Ok, switcho, switcho, gioco.